e poi tesoro domenica la partita più importante del campionato se vinciamo siamo siamo promossi luigi buffa il mio campione preferito ciao massimo brusa il mio giornalista preferito senti luigi pensavo visto che devo tornare in redazione chiudere il pezzo sulla partita già che ti ho incontrato e ho pensato magari un'intervista il campione la sedigina signorina me lo lascio due minuti ci mancherebbe anzi magari vi lascio soli fate pure numero uno di nome di fatto per favore un bicchiere di latte freddo liscio quanti rigori parati 50 55 60 75 75 75 rigori parati veramente la serie a gli uomini non fanno che parlare solo di calcio e lei invece no a me non piace il calcio a me piacciono i fiori si fiori colorati a proposito di serie a sì ho sentito che ci sono parecchi club che insomma stanno mettendo gli occhi a intenzioni ma sì certo che ho intenzione ma che ci sai puoi farci anche qualche nome qualche club importante nome del club dico qualcosa no è una cosa e così va dai lo scrivo non so dire fai scrivere qualcosa dai e inizia con la c scusa un attimo Non c'è colaggio. Catanzaro! Eh, dobbiamo andare. Scusi, la signora mi sta parlando com'è. Ma chi è signora? È meglio se cambiare. Un uomo che trascurre un fiore così prezioso non ha nessun diritto. Mi trovo costretto a chiedermi soddisfazione, signora. Come e quando vuole. Domani, è mezzogiorno. Andiamo. E così sia. E così sia. Andiamo. Cosa è successo? Ah sei qui? Sì Cosa c'è? Ho avuto un incubo Non fa niente Dormi amore Domani è una parte di tempo Già La signorina sta parlando con me Ma guardate Inizia con la C Mi lasci dire a pensare Perché tu non hai mezzo devi andare a via No a due mezzo devo essere via E' bellissima questa qua Che bella Vedrai che questa è l'ultima No Cosa è successo? Amore Oddio Cosa c'è? Ho avuto un incubo Ho sognato Cosa è? Musè alta fine che doveva essere alle 11 e mezza bella Scusami Ma come? Non doveva essere nell'armadio? Eh appunto Invece vabbè è un incubo A che ora doveva essere bella? No doveva essere nell'armadio tesoro Scusami Ero preoccupata Buonanotte Buonanotte Siete due deficienti e stop